benvenuti a tutti sul canale le news che vuoi tu oggi parliamo di francesca de andrè e gennaro liglio anche se so che a voi non piace tanto parlare della de andrè perché sta antipatica un po a tutti però sono notizie che ahimè devo dare perché il mio canale tratta di notizie di news di gossip eccetera eccetera quindi i due si sono lasciati ed è ufficiale gennaro liglio infatti lo annuncia su instagram francesca de andrè è tornato a seguire il profilo dell'ex giorgio tambellini e quindi a questo suo gesto gennaro liglio ha scritto il seguente post mi sembra giusto informarvi che la storia con francesca è giunta ormai al capolina ho preso questa decisione una settimana fa e ad oggi i fatti dimostrano di aver fatto la scelta giusta non ci sono mai stati calcoli e strategie ma solo amore che per me va al pari passo con il rispetto ci ho provato illudendomi che l'amore possa cambiare le persone ma i proverbi insegnano che chi nasce quadro non muore tondo cosa pensate della scelta di gennaro secondo voi avrà fatto bene fatemelo sapere giù nei commenti per me ha fatto benissimo ciao ciao